6.25 direzione becca della traversiera bene siamo arrivati alla partenza giornata bella ieri ha piovuto ci apprestiamo a andare su adesso andiamo al benevolo becca traversiera la danno a 5 ore vediamo questo è l'imbocco e di qua il ballone bisogna portare a giù i miei soci ecco il grande apparei spettacolo speriamo che tenga il giorno giornata bella continuo a portare la mosci eccolo lì e di qua la spettacolare grande apparei andrea e holder bisogna ancora portarli cominciamo a metterli a sci siamo quasi al rifugio benevolo e poi super di lì per fare il colle i miei soci sempre più in alto qui siamo prima di imboccare il ghiacciaio che è là sopra abbiamo un tot di gente davanti che arriva da sotto sempre più in alto qui siamo prima di imboccare il ghiacciaio che è là sopra abbiamo un tot di gente davanti che è dormito al rifugio posto spettacolo holder dietro c'era il grande apparei qua siamo sono in bocca del ghiacciaio ci sono le persone davanti che stanno tracciando probabilmente vanno a fare questo qua davanti il nostro obiettivo è laggiù eccolo lì questo qua siamo 2869 la punta è 3360 credo davanti a me è la grande apparei e la colonna che probabilmente va a fare la grande apparei sul ghiacciaio noi invece tagliamo tagliamo sono almeno le meno 20 abbiamo abbigliamento che ci aspetta l'ultimo pezzo il più difficile un posto spettacolare dall'altra parte vanno sulla grande apparei stanno tracciando qua invece dove siamo andati su noi su un ghiacciaio laggiù il gran paradiso giornata bellissima 50 metri siamo in punta ultimo pezzo di traccia poi piccaramponi panorama spettacolare si 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 ma scendere qua facciamo in fretta 100 metri la punta holder davanti andrino stiamo battendo siamo gli unici su di qua becca della traversiera la vista adesso facciamo passaggio di rocce cresta dietro le cornici e punta holder partito pian pian pianino destinazione punta passaggio delicato oramai siamo così in vetta in vetta holder pian pianino andrea praticamente è arrivato in punta c'è gente che è passata dall'altra parte di qua l'abbiamo fatta solo noi siamo tutti solo su noi oggi di qua mega gita tempo tiene di qua la francia valdeser valdeser al fondo alle holder vai becca della traversiera già fatta spettacolo di posto dietro la granda parei lì c'è la santa lane di qua di qua c'è la francia valdeser valdeser holder già fatta gran con ben lì dovrebbe essere la basac quella lì queste qua si giù la la gran rossa giornata spettacolosa la gran sassi adesso a scendere ragazzi ci siamo a scendere lei è giù più canino vai vado lì davanti ok vado lì davanti guarda sai cos'è pian pianino ci facciamo tutta la cresta dobbiamo saltare giù sul ghiacciaio alla granda parei c'è la coda a scendere sarà anche un pezzo a salire passaggio un po' delicato ecco Diego dopo la grande punta un po' di discesa almeno qua ce la siamo sverginata a salire ce la sverginiamo a scendere Diego che gode voilà alla grande adesso tocca andreino guarda bene Luca nel 2018 sai come si scende andreino dal becco da dietro tre tracce bello ed ecco la traccia di salita e di discesa la punta già fatta punta becca da traversier già fatta con Alder e Andrea che giocatori spettacolo poi il granda parei mucchio di gente oggi ma davvero fantastico questi quelli che sono già lì e poi a poi questi quanti che sono arrivati dopo di noi perché adesso al passato sono già tutti lì ma no che strano che fanno tutti i granda parei e nessuno che fa e oramai neve in marcia laggiù rifugio bellissima gita rifugio benevolo la neve in marcia anche far attenzione a non farsi male voilà oramai siamo alla fine abbiamo fatto il traverso da questa parte però ora siamo al torrente da sotto montiamo su e siamo quasi alla macchina dentro del bosco cambio di assetto scine lo zaino e giù a piedi bene e anche oggi è andata siamo tornati alla base e via saluti alla prossima grazie a tutti